Benvenuti ragazzi, sono Mattia e se lo ci facciamo qui su Fortnite con un mio amico di nome Samuel Ho iniziato un video su YouTube, come puoi vedere, di mia spontanea volontà Raga, siamo in 9, non fate caso perché sarò siamo camperati a tutto il tempo Eeeh, non lo so, basta, aspetta che stiamo provando a check in arresti qua da 3 ore Sì, sono dei figli di quasi puttana No, la safe, vabbè andiamo in safe, andiamo in safe Si dovranno spostare loro, Samuel, andiamo in safe Uuuuh Oddio, no Intentiamo Eliminato, eliminato, eliminato Tranquì, tranquì No, mi servono l'RPG, ti prego l'RPG RDP Prendi, Samu, prendi le vende, prendi le vende Arma nuova No, vabbè, non tengo lo scarso in safe Samu, siamo equipaggiati anche bene, eh Direi Aspetta, andiamo su quel monte, andiamo su quel monte, andiamo su quel monte Troveremo sicuramente No, scusa, no, scusa, scusa Andiamo qua Andiamo Siamo qua Vieni qua Scusa, la vedi melo, la vedi bene o male? Non ti capisco Sento qualcuno volare attentissimo Attento Samu Ho sentito qualcuno volare nelle vicinanze Samu, però non stiamo così Non stiamo così, veramente Faccio paura Vieni, vieni, vieni Stanno feitando Oh, siamo in cinque Ma tu c'hai zero kill, vero? Certo, ce l'ho sempre comprata tutto il tempo Io ho fatto una kill Oh, ci stanno massacrando, eh Sono lassù Credo Sì, infatti uno è già andato Poi saremo uno contro uno, mi sa Non ce l'ha nessuno il compagno, siamo in vantaggio, credo Non ci sono mele in giro, vero? Perché in teoria ho 98 di vita, io Vediamo dove è la safe Vediamo dove è la safe Io spero di sì, almeno li eliminiamo Andiamo in safe Aiuto Senza troppo vicini i colpi Senza troppo vicini Andiamo, andiamo in safe Attenzione perché ho sentito vicini i colpi Eccoli Lasciamoli feitare, lasciamoli feitare Andiamo su per questa montagna che si chiude qua la safe Vieni Vieni Sento Samu abbiamo anche la posizione Fatti un fortino Io me lo faccio Samu 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 Andiamo anche la posizione Andiamo anche la posizione Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Tranquillo Mettiti alla pari con me Mettiti qua Vieni qua Vieni qua Cioè Vieni qua Vieni qua Oh veramente Aspetta Allora mi modifico Allora qua Samu Ma se sono tutti giù abbiamo vinto nettamente Samu se sono tutti giù abbiamo vinto nettamente Samu abbiamo vinto Noo Vabbè Samu Oh ha eliminato uno Quattro Attento Samu è uno E qua E qua Samu Vedi Un attimo Si sta curando Eliminato Edge Si sta curando con le bende Samu Si sta curando con le bende Noi due contro uno Samu Siamo noi due Andiamo andiamo in safe Andiamo in safe Non ho materiali Non ho materiali Samu questo qua Se la sta camperando Abbiamo vinto Oh vittoria Vittoria Vinto oh ho oh 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 chiamate i campioni GG GG gigi, gigii! no, no! no, 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 no! ma dove sarebbe idiosi l'ho posto immediatamente questo figlietto! vado, il Montegchester e Triliano! Non siamo in live però si Oddio 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 raga Oddio Per oggi è tutto direi Direi con una vittoria reale Con il mio amico Amico raga Due kill Poi raga se non fosse stato Per quello la che non si è coperto Raga è scemo Per quello la Io l'ho cecchinato Io l'ho cecchinato Eh shot Con il volt action io Ma perché sto qua non si era manco coperto Sto qua si stava curando Piattamente non si era manco coperto Allora io ne ho approfittato Per cecchinarlo Per cecchinarlo Per cecchinarlo What the fuck you Raga per oggi è tuttissimo Per oggi è tuttissimo Anch'io ce l'ho ma raga Ma io l'avevo già fatto I vittori reali Due Una squadra Una coppia E uno in singola Veramente tutto perché abbiamo Abbiamo fatto una victory royal E ciao raga Anzi no Cosa vuoi dire stavo Cosa vuoi dire Ok dai Ciao raga Cosa vuoi dire stavo Cosa vuoi dire stavo Cosa vuoi dire stavo